Ricostruzione più veloce e trasparente, attenzione alle attività produttive, esigenza del personale della ricostruzione, riconoscimento per le vittime del terremoto e per i loro cari. Sono gli assi portanti su cui ruota il disegno di legge proposto dalla senatrice Pdina Stefania Pezzopane e altri firmatari. Si tratta di misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma. La presentazione del testo di legge sta mani nella sede del Pd. Per dare più trasparenza sono state definite delle responsabilità in capo ai presidenti dei consorzi, ai direttori dei lavori. Poi ci sono le norme invece per l'accelerazione della ricostruzione che riguardano in particolare i centri storici e che anche lì si definiscono obiettivi, fasi e tempi per la ricostruzione e penali qualora non si raggiungano questi obiettivi. Le penali sono la diminuzione delle risorse assegnate non per la ricostruzione ma assegnate per i compiti dei direttori dei lavori o d'altro. E poi ci sono, e queste sono molto importanti, le norme che riguardano il personale perché è chiaro che per accelerare la ricostruzione bisogna consolidare la governance con gli uffici speciali e quindi prevediamo la proroga dei precari, prevediamo...